Ciao ragazzi, probabili formazioni di Juventus, Samp, Doria, chissà se la Juventus riuscirà a chiudere il discorso scudetto Vediamo secondo me com'è la formazione più o meno, sì più o meno è questa, nel senso che secondo me è la stessa formazione che abbiamo visto nelle ultime partite e oggettivamente per me è inspiegabile, questa secondo me è la formazione, poi vi spiego perché Cesni, Alexandro, De Ligt, Bonucci, Quadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Ronaldo Di Bala, Bernardeschi Cos'è che mi è inspiegabile? Mi è inspiegabile questo e non questo Cioè Ramsey e non Pjanic qua, io questo non capisco, io questo non lo capisco Ragazzi veramente io non lo capisco perché è palese che Bentancur stia facendo fatica in quel ruolo lì anche perché probabilmente è anche stanco, è palese che Ramsey non ci sia, non ci sia non c'è fisicamente, mentalmente, non ci sia, è palese che l'unico in forma era Biot e l'unico che era in forma prima di questo shock di presidente di non farlo più giocare era Pjanic, quindi io non riesco a capire come è possibile non fare questa formazione chiudere il campionato e dopo che è chiuso il campionato fare tutti gli esperimenti che vuoi ma continuare, continuare a mettere Bentancur qua, Ramsey in campo e non Pjanic è follia è follia, però vabbè decide l'allenatore quindi queste sono le scelte dell'allenatore e saranno queste anche domani probabilmente Bernardeschi sempre anche perché dà una mano al centrocampista e al terzino perché questa catena di destra è molto fragile difensivamente e voi infatti se fateci caso i gol che prendiamo non li prendiamo mai da questa parte qua perché c'è Bernardeschi, noi la prendiamo da questa parte qua perché è Ronaldo ma non difende, Rabiot fa filtro ma spesso Alessandro spinge in questa maniera qua e si dimentica il suo ruolo originale tipo, cioè, se Alessandro spinge, cosa che fa, spesso gli avversari, cosa succede magari, che ne so, mettiamo caso che Bernardeschi in questo caso è l'avversario, prendono la palla, vanno di qua, crossano in mezzo da questa parte qua e da questa parte qua succede quello che è successo a Udine, cioè che Alessandro ha lasciato il giocatore libero di colpirla di testa, semplice, semplice, il calcio è semplice, può piacere o non piacere ma il calcio è semplice, se spingi troppo in avanti prendi tanti gol dietro, devi avere equilibrio e il problema principale della Juve è questo, possiamo mettere in difesa Coulibaly, Thiago Silva, chi volete perché ho sentito ancora critiche a Bonucci, ma se noi siamo così e noi siamo così, noi in certe partite, lo devo mettere qua se no non posso, noi creiamo, e questo è il problema principale della Juventus, noi spesso attacchiamo e ci troviamo così, con tra la difesa e il centrocampo chilometri, chilometri, qua puoi prendere oltre De Ligt, ripeto Sergio Ramos e fare una difesa 3 insieme a Coulibaly, ma tu il gol lo prendi perché in 3 non difendi, in 4 non difendi, se questo aggiungiamo che spesso troviamo questo, perché viene chiesto ai terzini di spingere tantissimo e questo, spesso noi con l'Udinese, non c'era Bonucci, c'era Rugani, noi ci siamo trovati così, addirittura l'ultima azione ci siamo trovati così, non puoi mettere solo un difensore, però per rendere l'idea, così, con De Ligt, solo con Fofanà in questo caso qua, che era qua Fofanà, saltato, eh Fofanà, questo Rugani facciamo finta che sia Fofanà, si è trovato qua, Cesni ha provato l'uscita, però Fofanà è andato il segnale, che vi devo dire ragazzi? Questa era la formazione di oggi, cioè di domani, e a me non riesco a salutarvi, vi dobbiamo appuntare con il prossimo video, ciao a tutti!